Sale ancora il numero totale dei contagi nelle Marche, arrivati ad oggi a 2.569 e dove la provincia di Pesaro si conferma l'epicentro del contagio con 1.312 casi nuovi positivi contro i 700 di Ancona e le basse Marche che incominciano a registrare in modo preoccupante numeri a tre cifre, 326 contagi a macerata e 133 a fermo e purtroppo anche i decessi. Sono arrivati a 230 pazienti, 28 nelle ultime 24 ore, una delle punte più alte. Ma ci sono in questo allarmante quadro anche i valori positivi, i dimessi degli ospedali e passati in isolamento domiciliare sono diventati 104 e i guariti 8 raddoppiati nel giro di 24 ore e poi l'andamento dei contagi che dal 14 di marzo non è più un'impennata esponenziale ma è più un'altalena a giorni alterni tra alti e bassi passando dai 109 ai 268 positivi. Anche se però il picco, ci dicono gli esperti, nella nostra regione non è ancora stato raggiunto. Ma le strutture, soprattutto quelle pesaresi, sono ormai alla saturazione dei posti per quanto riguarda il San Salvatore, divenuto Covid Hospital della provincia, mentre su Fano convergono tutto il resto delle tipologie di pazienti, oltre ad avere anche ricoverati nelle strutture del Santa Croce pazienti contagiati dal coronavirus ed in terapia. Resta stabile il numero dei casi in isolamento domiciliare 4916 dove il dato della provincia di Pesaro rispecchia l'andamento dei contagi avendo 2200 persone in isolamento domiciliare di cui ben 172 operatori sanitari.